buongiorno a tutti ragazzi ok buongiorno a tutti ragazzi siamo qui per un nuovo video di una nuova smettila di una nuova serie dei troll telefonici e in pratica noi chiamiamo la gente no basta hai scassato basta allora chiamiamo la gente allora in questo video andremo a chiamare la gente che conosciamo non so che non devo dire il nome allora gente che conosciamo ma non possiamo spifferare i nomi e allora dai smettila e chiameremo queste persone e con questa applicazione che si è scaricato Nicola dei pulsanti metteremo dei colpi esatto e allora faremo sta roba metteremo e loro non sapranno chi siamo e chiameremo col numero privato allora eh ho capito allora adesso andiamo a chiamare una persona che ti dico hai tipo gli appunti che ti dico allora aspetta adesso salva il numero che ti dico ok allora sto preparando adesso stiamo per chiamare ok siamo pronti adesso pedda metto la chiamata non risponde ha chiuso ha chiuso la chiamata oddio no è un po' epico questo ok è andato pronto è un interno di gola mamma no vabbè troppo delirante sta roba adesso che chiamiamo spezia ok abbiamo aspetta aspetta fallocchino ok va bene allora adesso chiamiamo un'altra persona e vediamo la sua reazione ok b questo è un po' è un po' Ok, allora metti quello di alla vostra Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti